Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Dopo i casi di ipotermia torna di attualità il disagio degli alunni siciliani. A Palermo questa mattina gli studenti non sono entrati in classe, sono rimasti davanti a scuola per protestare contro il mancato funzionamento dei riscaldamenti. È un problema che coinvolge troppe scuole in città, elementari, medie e superiori, lamentano i rappresentanti di istituto. In provincia di Agrigento, a seguito delle indagini avviate analizzando le telecamere di videosorveglianza, la polizia ha individuato e arrestato gli autori della rapina e i danni del centro scommesse sportive di Palma di Montechiaro avvenuta lo scorso 11 gennaio. Si tratta di due giovani di 19 e 29 anni che hanno agito armati. Blitz della polizia a Palermo. I agenti hanno identificato e arrestato un residente dello Zen che nella cucina del suo appartamento deteneva droga già confezionata e materiale per il confezionamento. Era occultata all'interno di una scatola di cioccolatini. I carabinieri della compagnia di Carini, restiamo a Palermo, hanno arrestato una coppia di pensionati con l'accusa di detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari insospettiti dal forte odore di marijuana proveniente dall'interno dell'autovettura su cui viaggiavano i conugi hanno eseguito la perquisizione trovando occultati nei sedili posteriori quasi mezzo chilo di hashish e circa 200 grammi di marijuana, oltre a 1200 euro in banconote di vario taglio. E con questa notizia per adesso è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci.